ciao a tutti e benvenuti a questo secondo episodio su fast braces oggi come potete vedere ho l'apparecchio ridenti almeno per quanto riguarda l'arcata inferiore e più avanti un medico installerà anche il dispositivo per i denti per l'arcata superiore vi posso già dire quali sono state le mie prime esperienze nei primi giorni di apparecchio cominciamo con l'installazione dell'apparecchio che avviene dal dentista è una procedura che si completa in poco più di un'ora quindi davvero niente di che inoltre non è dolorosa perché si tratta solo di incollare questi ganzi che vedete e i ferri poi vengono inseriti per tirare i denti nella posizione desiderata quindi procedura da dentista molto semplice non dolorosa tuttavia poi comincia questi ferri cominciano a farsi sentire in bocca la prima volta che ho mangiato con l'apparecchio è stato un po' difficile e ho veramente dovuto pensare ad ogni singolo boccone perché ogni masticazione comporta alcune cose prima cosa lo sfregamento di questi dentini contro le gengive che quindi vanno a battere e i dentini vanno a battere contro le gengive durante masticazione questo può fuoculare questo sfregamento può fuoculare dolore ma soprattutto i denti sono in tensione quindi aggiungere un'ulteriore forza dall'alto durante la masticazione rende diciamo questa esperienza non molto piacevole quindi masticare è difficile si preferisce mangiare dietro con i molari con il palato che invece non soffrono di questo problema quindi per quanto mi riguarda ho trovato difficile all'inizio a masticare perché cercavo di masticare normalmente con gli incisivi e poi con i molari invece con l'apparecchio è meglio passare direttamente ai molari evitare cibi croccanti cibi duri e dopo aver mangiato ovviamente bisogna stare attenti alla pulizia dei denti non è difficile pulire i denti con l'apparecchio però ovviamente bisogna evitare che ci siano incastri di cibo che ci sia cibo incastrato tra i ferri questo si può semplicemente eliminare con l'ausilio di uno specchio basta controllare i denti quindi niente di che da quel punto di vista la prima notte è stata impegnativa perché la pressione sui denti era notevole e devo dire che ho avuto veramente qualche difficoltà ad addormentarmi poi mi sono addormentato e avevo questo desiderio appunto di togliermi questa cosa tra i denti a cui non ero abituato ma vi posso garantire che nel giro di due tre giorni ci si abitua e non ci si fa più caso inoltre anche per mangiare ecco i primi giorni sono proprio difficili si deve mangiare in una maniera in cui non si è abituati ma poi quando si trova all'equilibrio si va avanti come al solito quindi da questo punto di vista ha primi giorni cruciali impegnativi dopodiché ci si abitua e via via con il tempo diventa una cosa normale ecco grazie per avermi seguito questo video si chiude qui ma ci sarà breve un secondo episodio quando avrò appunto l'apparecchio di arcata inferiore e superiore e vi dirò di più di come mi trovo e poi altri video più avanti via via che i denti verranno raddrizzati grazie al sistema fast prices che ve lo ricordo è un sistema americano abbrevettato che si usa anche in adulta perché ha caratteristica di essere più veloce dei tradizionali ferry che permette di risolvere anche casi di disallineamento piuttosto gravi grazie questo video si conclude qui se vi vi è piaciuto iscrivetevi al canale per le prossime novità lasciatevi un mi piace lasciatevi un commento e come al solito ci vediamo alla prossima